Ecco qua, perfetto, perfetto, poi lo vogliamo fare un po' più solido, questo è ero? Vogliamo mettere le ruote? Sì, le ruote ce le hanno iniglia. Scusa Giulia, possiamo prendere le ruote un attimo? E qua, vedi? Ecco qua, vedi. Ecco qua, vediamo le ruote, un'interiore solidità, chiamo, non si è finita, o se viene, na jutel più, 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 se viene da.